In collaborazione con sportoutdoorviaggi.it Marco, Hosis Technology Cari amici, benvenuti al consueto appuntamento con sportoutdoor.tv la multipiattaforma tv web dedicata allo sport e turismo in questa puntata parliamo di moto d'acqua e andiamo a Rimini per il quarto trofeo Città dei Rimini organizzato dal club nautico Rimini in collaborazione con H2O Racing Team e Marina dei Rimini Jet Riders con il patrocinio del CONI e del Comune di Rimini ovviamente sotto legida della Federazione Italiana Motonautica ma adesso andiamo a vedere cosa è successo in questa gara dove c'è stato il record di presenze di piloti ben 117 iscritti, grande pubblico, bellissimo evento vediamo che cosa è successo e iniziamo con la categoria RUNABOUT F4 con il numero 4 iscritto piccino numero 8 fracassa Alessandro, numero 9 Oliveri Marcantonio, numero 13 Pozzani Mirko, numero 17 Vernata Maurizio, numero 18 Sardelli Sandro, 21 Paolo Paesani, 28 Andy Transmondi, 29 Frolla Matteo, 45 Boratto Federico, 57 Bettucci Michael, 70 Mariani Roberto, 77 Daniele D'Alemmo, 86 Tiozzo Iuri, 88 Benigno Alessandro e 98 Pontecorvo Antonio. Grazie a tutti e per questa categoria Rano Baut F4 vediamo a questo punto la classifica del campionato italiano. In testa fracassa Alessandro 90 punti, Paolo Paesani 64, Roberto Meneani 60, Iuri Tiozzo 42, Boratto Federico 38, Vernata Maurizio 36 e Oliveri Marcantonio 34. e passiamo ora alla categoria Ski F3. Nella Ski Open gli iscritti sono Antonelli Stefano col numero 6, il 15 Castiglioni Mattia, poi il 33 di Brusadin Lino, il 55 di Andrea Bergamo e l'86 di Tiozzo Iuri. Nella Ski Open gli iscritti sono Antonelli Stefano e l'86 di Tiozzo. Nella Ski Open gli iscritti sono Antonelli Stefano e l'86 di Tiozzo. Nella Ski Open gli iscritti sono Antonelli Stefano e l'86 di Tiozzo. Nella Ski Open gli iscritti sono Antonelli Stefano e l'86 di Tiozzo. Questo l'elenco degli iscritti invece della Runabout F4 Nobis con il numero 8 Alessandro Fracasso, il numero 19 Giovanni Taranto, il numero 45 Federico Boratto, il numero 74 Ingarra Giorgia, il numero 77 Daniele D'Alemmo, 99 Matteraglia Giacomo e 57 Bertucci Michael. Nella Ski Open gli iscritti sono Antonelli Stefano e l'86 di Tiozzo. Nella Ski Open gli iscritti sono Antonelli Stefano e l'86 di Qures di Tiozzo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. viaggi a tutti.